Something is killing the children. C'è qualcosa che sta uccidendo i bambini. Questo è il titolo di una serie a fumetti, a carattere thriller e horror, che attualmente in Italia è pubblicata dalle edizioni BD, creata dallo scrittore americano James Tainon IV. Disegnata dall'artista italiano Werther dell'Edera e colorata dallo spagnolo Michel Muerto, rappresenta uno dei fumetti di maggior successo oltreoceano. Fatto! Ancora più interessante, se consideriamo che è stato pubblicato dai Boom Studios, una piccola casa indipendente che non può certo contare sulla disponibilità di mezzi promozionali delle grandi major. Nell'estate del 2021, poi, Netflix ha annunciato di averne affidato la trasposizione in serie TV a niente meno che Mike Flanagan, un autore cui qui a Mondoserie.it abbiamo già dedicato un interessante articolo in relazione alla splendida serie gotica Midnight Mass. Something is killing the children. È un ottimo prodotto di genere che si regge su una storia ben narrata e ben disegnata, veloce da leggere e che deve il proprio successo all'unione di tanti elementi, anche molto distanti tra loro, per matrice e ispirazione. In prima istanza c'è un thriller ambientato nella provincia americana. La cittadina di Archer's Peak, nel Wisconsin, registra un numero drammaticamente alto di bambini scomparsi e i pochi che vengono ritrovati sono cadaveri orrendamente mutilati. Come poi in un teen horror, tra i ragazzi e gli adolescenti, inizia a girare la voce che esista una creatura mostruosa nei boschi che rapisce i giovani e dopo averli torturati li uccide. Manco a dirlo, la polizia brancola nel buio fino all'arrivo della misteriosa Erika Slaughter, una ragazza che parla poco ma che sembra avere una precisa idea di chi sia il colpevole di questi terribili omicidi e di come fermarlo. A dirla tutta, le forze dell'ordine inizialmente non vedono di buon occhio la nostra giovane straniera, ma saranno costretti giocoforza a cambiare idea a causa di una scoperta raccapricciante, il manifestarsi di una minaccia per tutta la comunità e l'arrivo dell'ordine di San Giorgio. Enigmatica organizzazione a cui appartiene la nostra Erika. L'omicidio nella sonachiosa provincia americana è un elemento ricorrente in alcuni dei migliori polizieschi. Una cittadina tranquilla, priva di gloria ma anche senza particolari macchie, viene sconvolta da uno o più efferati delitti. Possiamo trovare questo incipit in Omicidio a East Town, passando per True Detective, fino al punto di riferimento per tutta la serialità d'autore, ovvero Twin Peaks. Serie spartiacque, tra una cultura pop fino ad allora semplice intrattenimento e un mondo di storie innovative e perturbanti che scavano nel subconscio degli spettatori. Tutte serie magnifiche, a cui ci siamo a lungo dedicati qui, su Mondoserie.it, e che rappresentano senza ombra di dubbio un'eccellenza narrativa che travalica i generi. Archer's Peak come Twin Peaks, quindi? No, le investigazioni oniriche dell'agente Cooper, anche gli straniero, in terra straniera, non hanno nulla a che fare con la rozza spietatezza di Erika Slaughter. Così come questa protagonista femminile non ha la dolente complessità della Mario Vistown interpretata da Kate Winslet. La Slaughter è un incrocio tra i Clint Eastwood dei film di Sergio Leone e Buffy l'ammazzavampiri. Guarda caso, altro titolo di successo pubblicato dai Boom Studios. Come il protagonista della trilogia del Dollaro, Erika ha un carattere taciturno, dei modi rudi, ed è vista con sospetto ed evitata dai cittadini. A lei, d'altronde, non interessa di certo essere ben voluta. Come la teenager cacciatrice di vampiri, poi, la nostra ha una grande conoscenza del mondo esoterico e in più possiede la capacità di vedere quei mostri che gli altri non vedono. Nell'aspetto sono evidenti le influenze della cultura shonen, che in Giappone identifica anime e manga dedicati al pubblico adolescente. Il ciuffo biondo che le copre un occhio, lo zainetto sulle spalle e uno strano polipo di pezza parlante che le fa da diabolica spalla sono un richiamo evidente alle protagoniste degli anime e dei manga che in questo momento vanno per la maggiore tra gli adolescenti, Jujutsu Kaisen e Chainsou Men in testa, fumetti che fondono la narrazione avventurosa con la tradizione popolare degli yokai, ovvero i demoni e gli spiriti malvagi giapponesi. Il secondo elemento portante della serie è quindi l'horror. Quel qualcosa che sta uccidendo i bambini è un mostro. Non solo uno per la verità, ma non voglio dire troppo. Il punto è che questo demone può essere visto solo dai bambini e dai membri della casata degli slaughter grazie a una mutilazione a cui si sono sottoposti. Come in Stranger Things, il pericolo dorme sotto le case dei cittadini ignari, si nasconde nei boschi e può essere percepito da chi ancora crede in un mondo oltre a visibile. Qui, però, le cose prendono subito una brutta piega e quelli che potrebbero essere i protagonisti della serie dei Duffer Brothers vengono immediatamente massacrati senza tanti complimenti. Ora, mi preme fare una piccola considerazione. L'idea di una storia che in buona sostanza parla di piccoli bambini uccisi nel peggiore dei modi farà sicuramente inoridire qualcuno. E nessuno, dotato di buonsenso, direbbe che il bello di questo fumetto è la carneficina di tenere creatori innocenti, ma il punto è proprio questo. Come nelle fiabe popolari o nei teen horror, vittime ingenue e indifese stimolano in noi il timore per la loro sorte e più la potenziale vittima è fragile, più noi, spettatori consapevoli del pericolo incombente, accresciamo la partecipazione emotiva. È un preciso meccanismo narrativo portato al proprio applice, per esempio, da Hit di Stephen King. In Something is Killing the Children il dettaglio macabro non è compiaciuto, ma neppure ci vengono risparmiate scene dure che, avviso, potrebbero urtare i più sensibili tra di voi. Nemmeno l'horror, però, è il perno centrale. Nonostante sia l'involucro che avvolge il tutto, i mostri di questa serie a fumetti sono sì creature potenti, sanguinari e implacabili, ma ben poca cosa rispetto alla casata degli Slaughter. Se il successo di questo fumetto non sta nel thriller né nell'horror, forse il punto di maggior fascino sta nell'apparizione e nel lento disvellamento dell'Ordine di San Giorgio, i cui accoliti prendono tutti il cognome Slaughter, macellaio, per chi non sapesse l'inglese, e che ha come obiettivo primario cacciare tutti i mostri e i demoni della Terra, costi quel che costi, anche l'annientamento di un'intera cittadina. Quindi, l'elemento vincente potrebbe essere quello di un world building imperniato su una squadra di specialisti occulti, ufficialmente inesistenti al di sopra di ogni giurisdizione, che insabbiano segreti scomodi in un bagno di sangue alla faccia dei complottisti e del 5G. Jim Stein in un quarto, resosi conto durante la pubblicazione dei primi episodi delle potenzialità del fumetto e dei suoi personaggi, dilata la storia, con qualche evidente calo di ritmo a dirla tutta. Lo scopo è introdurre questa società di assassini che alla fine del ciclo delle storie di Archer's Peak diventerà il focus della narrazione successiva. Tanto che recentemente la Boom Studios ha annunciato una seconda testata denominata per l'appunto House of Slaughter, tutta dedicata alla complessa e affascinante struttura di questa casta di cacciatori di mostri. Il talento narrativo dello scrittore poi ha avuto la fortuna di incontrare il talento visivo dell'italiano Werther Dell'Edera, disegnatore che collabora con Marvel e Bonelli e che ha già dimostrato il proprio talento con le ambientazioni occulte lavorando con Tiziano Sclavi, creatore di Dylan Dogge, e a Una storia del Corvo, mitico personaggio gotico creato negli anni Ottanta da James O'Barr. Il tratto di Dell'Edera è perfetto per questo tipo di narrazione. sporco nel tratteggio, frenetico e cinetico nelle linee di movimento, ma al contempo molto leggibile, anche se personalmente non amo le pagine con le strisce di vignette a lettura orizzontale che sfociano nella pagina accanto. Un espediente di nessun interesse che rovina solo il ritmo di lettura. I colori dello spagnolo Michel Muerto sono acidi, freddi, direi spietati. Una scelta ben calibrata per far sì che il rosso del sangue emerga prepotentemente all'occhio del lettore. Tutto questo, però, la narrazione, i generi, le vittime, i disegni, i colori, sono solo il contorno di quella che è la vera fortuna di quest'opera, ovvero un design perfetto per il cosplay. Erika Slaughter è, infatti, tra i look più amati, anche perché è relativamente facile da replicare. basta una parrucca platinata raccolta in una coda di cavallo, un ciuffo a coprire gli occhi azzurri pesantemente truccati come quelli di chi non dorme da parecchi giorni, una canotta bianca, scarponi, leggings neri e un coltellaccio. L'accessorio distintivo, però, di questo personaggio è la bandana nera condisegnata sopra una terrificante schiera di zanne a guzze a coprire naso e bocca. E se pensate che questo costume possa riguardare solo le ragazze, basterà abbinare una camicia e un paio di pantaloni scuri a una delle altre bandane che inquadrano le varie sezioni degli slaughter bianchi, verdi, rossi, blu e sarete pronti per la prossima convention con un perfetto look da ordine di San Giorgio. Alla fine vuoi vedere che la fortuna di questa serie è proprio il fazzoletto.